Una casa dedicata alle famiglie e alla preghiera, un sogno ambizioso, quella della Family Hope, un luogo di culto che sorgerà a Cevo sul colle dell'Androla, dove dal 700 esiste una cappella dedicata alla Madonna di Caravaggio. Sullo stesso colle, la psicologa Belotti intende realizzare Casa Cairos. E che verrà edificata a Cevo in Val Saviore. Volevo fare qualcosa per il mio paese, Natio, ma anche per completare la costruzione che è stata posta intorno alla croce che noi chiamiamo del Papa, per ricordare la visita di Giovanni Paolo II a Brescia. Vicino alla croce Casa Cairos per completare, per accogliere il pellegrino che arriverà alla croce. I pellegrini stanno diventando sempre più numerosi. Sopra la casa del pellegrino ci sarà invece la casa di preghiera per la famiglia, un luogo adatto esclusivamente a pregare per la famiglia. Vogliamo che sia un punto molto importante di riferimento per la famiglia, sia dal punto di vista architettonico, perché ha la forma proprio di un cannocchiale che guarda la valle, sia dal punto di vista spirituale, perché sarà proprio per la preghiera. Due milioni di euro questo, il costo totale per realizzare Casa Cairos. Tanti soldi, forse troppi, ammette la psicologa Belotti, che nonostante le difficoltà non vuole arrendersi e crede in questo progetto, proprio come ha fatto tanti anni fa per la Family Hope. La preghiera ricorda la precarietà in cui viviamo. È un momento difficile per tutti, però abbiamo anche bisogno dell'aiuto di tutti per poter costruire questa casa. Pensiamo che in un momento di difficoltà dobbiamo proprio alzare lo sguardo ai valori che stanno alla base ancora del valore grandissimo della famiglia. E questo punto di preghiera per la famiglia diventi proprio un luogo di speranza per noi, per i nostri figli e per il futuro della famiglia.